Gensan è fornitore ufficiale della Nazionale Italiana di Ciclismo per quanto riguarda i prodotti dedicati all'integrazione alimentare. Qui oggi siamo per presentare tutta la linea Max Din, che è la stessa linea che utilizzerà anche per i prossimi anni e con successo ormai da due anni la Nazionale di Ciclismo. Tutte le nazionali di ciclismo, quindi non solo quella maschile ma anche quella femminile e anche i juniores. Qui oggi presentiamo il nuovo prodotto che sta riscontrando un ottimo successo che è il Megasapol LD, che è un prodotto per migliorare la capacità di resistenza, scientificamente dimostrato, un prodotto unico nel suo genere. Innovativo, amminoacidi, fermenti lattici, vitamine e soprattutto octacosanolo che è un alcol che agisce positivamente sull'ormone della crescita.